azienda sanitaria locale caserta 2 siamo all'interno degli uffici di direzione e guardate un po c'è un deposito di rifiuti al coperto messi belli al coperto ma pur sempre rifiuti ce ne sono anche all'esterno e addirittura c'è una zona in cui vengono bruciati questi rifiuti e ce n'è di ogni tipo, imballaggi, cartaccia, sacchi neri, cartacce sparse per i viali, computer, avanzi di pasti, vittori di materiali speciali e non mancano materassi e mobili o elettrodomestici come accade in ogni discarico a cielo aperto che si rispetti. Dietro quella barricata di foglie c'è l'ufficio igiene e prevenzione collettiva dell'azienda sanitaria che non vede e non sente.